Si è fatto silenzio, ci state aspettando, non vi facciamo aspettare. Allora, accanto a me io sono Alberto Nile, conservatore della Cineteca Nazionale, con la quale abbiamo restaurato il film che avete forse visto ieri in prima assoluta nostalgia restaurato. Accanto a me c'è Andrei Tarkovsky Jr., il figlio del grandissimo regista, dall'altro lato il maestro Lanci, direttore della fotografia del film e curatore del restauro, insieme alla nostra squadra, il nostro responsabile del restauro che si chiama Sergio Bruno, Luigi Lupi e Marco Meconi, che insieme agli altri colleghi della Cineteca hanno fatto questo eccellente lavoro, come avete forse avuto modo di ammirare ieri. Questo è un panel sul restauro, però prima di arrivare proprio alle questioni tecniche, vorrei anche cercare di capire meglio l'opera, come è nata, come si è sviluppata, quali arricchimenti o incidenti di percorso ha avuto prima di arrivare alla forma di ieri. Per questo la persona, anche se all'epoca aveva quanti anni quando si girò, quando si preparò? 12 anni. 12 anni quando si girò. In realtà questo è un progetto che era nato diversi anni prima, con, dicevi ieri, sette stesure di sceneggiatura. Chiedo allora ad Andrei Tarkovsky da dove è nata all'inizio l'idea di nostalgia e come è arrivata poi alla stesura, diciamo finale, perché poi anche sul sette qualcosa è stato cambiato. Sì, buongiorno. Dunque, il progetto nasce dall'incontro tra mio padre e Tonino Guerra a Mosca nel 1976. Tonino venne con Federico Filini al Festival di Mosca, si incontrano, nasce un'amicizia. Tonino poi torna l'anno successivo a Mosca di nuovo perché si innamora nel frattempo di Laura Jablowskine, la sua futura moglie. Torna tra due anni, si sposano, si sposano a Mosca e mio padre Michelangelo Antonioni sono i testimoni di nozze. E da loro cominciano a lavorarci insieme, visto che poi le case a Mosca di Tonino e di mio padre erano molto vicine, e si vedevano spesso, passeggiavano e così. Tonino, vedendo anche le difficoltà che mio padre aveva nel poter girare i film all'epoca, ne ha fatti cinque in vent'anni, voleva aiutarlo e coinvolgere un progetto e una coproduzione italiana. Così cominciano a lavorarci. E così viene fuori l'idea di un film, primo un docu-fiction, quindi Viaggio in Italia, era il titolo iniziale del film, dell'opera, che doveva raccontare un viaggio di un intellettuale, un artista russo per tutta l'Italia. Un film particolare, interessante, dove dovevano essere le scene documentari, ma anche con delle scene introdotte, per esempio, da Dostoevsky, dall'Idiota. Un po' un'idea che mio padre per tutta la vita ci teneva di fare un film su Dostoevsky e non riusciva mai a farlo, doveva far parte di Nostalghia. Parte anche la parte burocratica del progetto, quindi i primi rapporti tra i sovietici e la RAI, che sono sempre molto complicati, chiaramente i sovietici non volevano fare questo film. La RAI insisteva e quindi nel frattempo la sceneggiatura veniva lavorata, riscritta, rifatta, e quindi alla settima versione, finalmente, nell'82, mio padre parte per l'Italia per girare i film. Alcune scene, quelle che avete visto, della Russia dovevano essere girate in Russia, chiaramente con degli attori russi, eccetera, che non furono mai fatte, perché nel frattempo la Russia esce dalla produzione, proprio chiede dei finanziamenti così alti per girare quelle scene in Russia che si capisce che loro proprio non volevano farlo fare. E quindi viene fatto tutto in Italia. Qual è il problema? Cioè perché, facciamolo capire oggi dopo molti anni e molte riflessioni diverse, cambi anche di ideologia, perché i sovietici non volevano Nostalghia? Avevano paura, perché chiaramente dopo, sapevano, mio padre faceva un cinema molto particolare, non accettava mai dei compromessi, non ha mai accettato delle censure, tutti i film che ha fatto a costo di farne 5 e 20 anni, poi le tematiche, la spiritualità, il tema religioso delle sue opere, era sempre chiaramente in diretto contrasto con l'ideologia marxista sovietica. Quindi, nonostante che, già un miracolo che questi 5 film, che comunque, ricordiamoci, Andrei Rublehov, che è uno dei film forse che l'hanno creato più problemi, Solaris, Specchio, Stalgh, insomma, erano sempre dei film girati con estreme difficoltà. Si parlava proprio ieri, si parlava di maniera di girare il film, il cinema, eccetera. Praticamente gli davano la pellicola, mio padre voleva lavorare solo con la Kodak, per esempio, parlando della parte tecnica dei film. Solo i registi più importanti di regime, così, di propaganda, ricevevano Kodak in grande quantità. Gli davano soltanto la pellicola per fare uno o due Chuck per ogni scena. Quindi, per esempio, Solaris è girato forse con una o due scene per... Due Chuck. Due Chuck per ogni scena, sì. Che è un miracolo. Sì, sì, assolutamente. Infatti, quando venne in Italia per Nostalghia, e le hanno dato migliaia e migliaia di pellicola, lui dice, io non so che cosa farmene di questa pellicola, perché era abituato talmente risparmiare, e preparare il set per l'inquadratura che non ne aveva neanche bisogno. Arriviamo alle riprese, o diciamo un attimo prima delle riprese. Qui c'è un altro piccolo giallo, perché il direttore della fotografia all'inizio non doveva essere Giuseppe, detto Peppe, detto Beppe, Lanci, ma Luciano Tovoli. Qual è la tua versione dei fatti? Come sei subentrato al progetto? La mia versione è quella che mi è stata detta da Norma Mozzato, che ci faceva da interprete, che poi ha fatto l'aiuto regista del film, che Andrea parlava in russo, quindi ha bisogno di un interprete. L'interprete era Norma. E allora mi ha detto che Andreino sentiva che la disponibilità di Luciano verso il film non era totale. E quindi questo è quello che mi ha detto. E quindi cercava un operatore più giovane che potesse dedicarsi al film al 100%. Da più parti è salvato il mio nome. La mia fortuna è che nelle sale c'era Salto nel vuoto, un film che aveva appena fatto con Marco Bellocchio. Andrei va a vedere il film e nei diari riporta ho visto il film di Marco Bellocchio, un po' cerebrale, la fotografia di Beppe Lanci, non male. Questa non male era, insomma, detto da Tarkovski, era un bel voto secondo me. Una benedizione. E quindi poi mi ha voluto incontrare. Parliamo dell'80, cioè due anni prima che si facesse il film. Ecco, perché tu mi dicevi che Tarkovski comunque prima di assoldarti ti ha voluto conoscere, frequentare, parlare? Sì, mi ha voluto conoscere, poi ho voluto venire a casa mia, ho voluto vedere dove abitavo, insomma ho voluto sapere tutto, cosa pensavo, cioè avevo una specie di psicanalisi. E quindi finalmente poi ci siamo visti più volte, sempre a casa di Norma o a casa di altri amici, a pranzo, a cena, e quindi c'era una conoscenza che è andata un po' avanti. Ma di cosa parlavate? Di cinema, dei massimi sistemi, di Dio? Un po' di tutto. Insomma io ero più un ascoltatore, diciamo. Cioè era abbastanza, no? Un po' in suggestione rispetto a una figura così grande come quella di Tarkovski. Difatti quando mi è arrivato alla telefonata del primo incontro io ero appena rientrato a Roma da un lavoro, quindi apro la porta, se sento la tempo, appoggio le valigie e a Norma dice Tarkovski ti vuole conoscere. Dico un attimo, mi sono seduto. E da lì è cominciato questo rapporto, lui è partito poi qualche mese dopo, sembrava che il film non si facesse, non si erano trovati i finanziamenti e prima di partire mi ha scattato un oboroid, lui era molto amante di questo mezzo, dicendo questo è il contratto, quando vado a Mosca faccio vedere il direttore della fotografia l'ho trovato, quindi li ha suggellato e poi è tornato due anni dopo nel 82 e quindi io da appena rientrato a Roma praticamente ho finito gli occhi e la bocca a un altro film di bell'occhio e insomma praticamente poi non ho più lavorato per stare a presto a lui per sei mesi prima che iniziassero le riprese. cosa avete fatto in quei sei mesi? abbiamo fatto tanti sovraluoghi, tanti incontri, tanti storyboard sulle scene del film, insomma, cioè il lavoro di Andrei su me, cioè le richieste tecniche erano poche, sono state poche le richieste tecniche, io penso che il suo modo di rapportarsi come fosse farmi entrare un po' nel suo mondo poetico, quindi farmi sentire più possibile il film un po' come lo sentiva lui, questo è stato penso il tentativo suo durante tutto questo periodo, cioè credo che lui abbia molto apprezzato io stessi a disposizione tutto questo tempo. In quei sei mesi non hai lavorato per altri, non hai fatto nient'altro? No, no, perché? Mentre poi le riprese sono durate sei settimane soltanto? nove settimane nove settimane comunque è un periodo abbastanza un periodo calcoliamo che il film è di due ore e un minuto montati quindi insomma è un tempo di nove settimane di cui otto a Roma che si girava cinque giorni sono 45 giorni più sei negli intorni di Bagno Vignone quindi insomma è un tempo abbastanza non è un tempo lungo per un film di questa fattura diciamo dove c'è tutto finto la nebbia quindi ogni volta che si fa fare la nebbia finta erano insomma tempi tempi di riparazione abbastanza complesse però il film ha poche inquadure sono tanti i piedi di sequenza e questo ha permesso di poterlo realizzare in quei tempi però questo significa essere sicurissimi dei movimenti come avete fatto a fare l'ultima scena quella della vasca con questo piano sequenza lunghissima la tua abilità a seguire lentissimamente i movimenti lì c'è chiaramente io ho portato una troupe di altissimo livello il operatore di macchine era brevissimo il film è praticamente perfetto io l'ho visto infinite volte c'è solo uno sbaglio diciamo se possiamo c'è solo un errore veniale quello è un carrello preparato il carrello hanno fatto le prove con la neve più che altro erano andati già prima perché la chiesa è molto alta la cattedrale di San Galgano quindi quelli degli effetti speciali erano andati giorni prima hanno piazzato dei praticabili delle torrette ovviamente all'esterno della cattedrale e avevano fatto le loro prove per vedere e sparavano la neve quindi è stata fatta le prove noi quando siamo arrivati quindi queste prove erano già state fatte si è messo il carrello c'era un carrello cioè in realtà poi la preparazione è molto grossa dal punto di vista scenografico perché all'interno della cattedrale è ricostruita la casa la dacia del protagonista che noi abbiamo già visto in altri piani di sequenza in un luogo che poi è vicino a Udricoli in un paesino vicino a Roma e quindi è stata riprodotta in scala all'interno di questa cattedrale ovviamente siamo andati una volta a fare un sovralluogo con la macchina da presa e lo scenografo Andrea Grisanti ha capito le proporzioni che doveva avere la costruzione infatti quando l'inquadratura parte l'impressione è che assolutamente è dal vero quindi è solamente quando la macchina va indietro e scopre che è una costruzione finta all'interno della cattedrale ma quindi quant'era grande effettivamente ma stessa non mi ricordo esattamente ma 3-4 metri ma poi ha fatto tutto la vegetazione la strada i pali della luce cioè era stata ricostruita esattamente come vediamo in un quadradura precedente e anche mi diceva ieri Andrei Tarkovsky l'esatta riproduzione comunque molto simile alla vera casa che aveva tuo padre in Russia sì infatti molto precisa perché mi sono incontrato tempo fa con con aiutante di Andrei Crisanti che ha lavorato proprio sulla ricostruzione di questa di questa casa in campagna è una nostra casa che esiste tuttora stiamo facendo preparando un museo lì che per fortuna è rimasta invariata negli anni e si trova esattamente e si trova a 300 chilometri da Mosca un posto molto isolato e infatti tutte le scene dei sogni di Korciakov per esempio all'interno la camera della donna della moglie dove dorme lei il suo studio per esempio la panoramica con i bambini il cavallo in fondo della valle con il fiume è esattamente la riproduzione proprio di una vista dalla casa che esiste e mi raccontava questo scenografo che praticamente per costruirla ci è voluto molto tempo mio padre è arrivato in quel luogo dove voleva costruire la casa e ha piantato un palo in terra dice la macchina da presa qui la casa lì e ci aveva costruito tutto quanto lui torna dopo un mese un paio di mesi di controllare e dice no mezzo metro più a destra ha detto spastiamo il palo no la casa quindi hanno dovuto rispostare tutta la casa quindi ecco questo era un po' un metodo di lavorare alla precisione che lui cercava sul set perché volevo proprio e infatti ha fatto le sue famose fotografie delle polaroid che forse conoscete che sono state pubblicate in questo libro luce istantanea sono proprio scattate per in ricerca del come se fossero i ricordi per ricostruire la casa in Italia sul set di Nostandria questa era l'ultimissima inquadratura ma la precedente quella della candela accesa nella vasca che è un piano sequenza lunghissimo lentissimo in cui dovete tenere a fuoco lui stare attenti anche a quando la candela si spegneva immagino naturalmente ma forse per abitudine prima diceva Andrei che lui girava perché poco ciacca perché aveva poca pellicola comunque questa abitudine l'ha mantenuta noi giravamo sempre pochi ciacca le inquadrature questa della candela che è un'inquadratura molto complessa soprattutto per l'attore l'attenzione che deve mantenere in un piano sequenza così lungo da un punto di vista tecnico è semplice c'è un carrello che è tutta la piscina quasi 50 metri con la luce naturata quindi il problema era solamente proprio di recitazione trovare una sintonia fra i movimenti dell'attore non previsti non preordinati con il carrellista che muoveva il carrello e l'operatore di macchina ma lì la candela si spegneva naturalmente la candela si spegneva no non naturalmente due volte l'abbiamo spegne perché c'era ovviamente un macchinista con ventilatore che andava presso qualche volta lo dava sulle foglie indietro per far vedere che c'era il vento anche nell'ambiente e poi a un cenno di Andres lo dava sulla candela per spegnerla l'inquadratura sembra molto semplice tecnicamente in realtà è fatta con girata con uno zoom insomma chi l'ha visto con attenzione verrà che noi partiamo sempre in figura intera quando il personaggio sta all'inizio della piscina e piano piano lo zoom va a stringere in piano americano poi quando la candela si spegne si torna indietro si ritorna in figura intera e si ricomincia poi al finale invece andiamo molto stretti in dettaglio sulla candela in questi movimenti noi andiamo a 24 fotogrammi quando torniamo indietro e invece quando c'è la tensione dell'andare avanti con la candela la macchina va sopra i 30 fotogrammi solamente per creare una non so un qualcosa una sospensione e quindi questo comportava anche un leggero movimento del diaframma che andava riaperto un pochino quando si alzava alla velocità della macchina quindi questa è la cosa tecnica ma diciamo soprattutto una inquadratura di recitazione insomma sì certo bella complessata sono stati fatti credo solo due sciacchi interi e gli altri sono stati interrotti per il motivo perché si spegneva da solo la candela o perché c'era qualche qualche altro problema questa è stata la più complicata o qual è stata invece dal tuo punto di vista in fase di riflessione per me sono due le inquadrature molto complicate una nella chiesa sommersa perché noi abbiamo girato il primo giorno l'entrata con un grandissimo sole quindi abbiamo avuto la facciata in piano sole e il giorno dopo quando siamo andati pioveva era buio molto buio e quindi ho dovuto rifare la luce dentro è come un interno non illuminato quindi è tutta una luce ricostruita e Andrei pensavo che andava rifatta quella sequenza devo dire poi Norma mi ha confessato che ha detto mi sa che bisognerà rigirare perché poi stranamente queste cose che succedono nel cinema siccome la scena assolutamente non era realistica quindi questa luce inventata poi invece funzionava bene per il senso per il significato per il significato della scena per cui ovviamente non l'abbiamo rigirata e l'altra molto complessa è quella all'interno dell'albergo con tutti i cambi di luce quello è un giorno di lavoro e sono però quasi dieci minuti di film quella è stata molto complessa perché calcolate tutti i cambi di luce e i movimenti di macchina sono fatti in un periodo dove non c'era nessun controllo dell'immagine con dei video cioè le macchine da presa in prima non avevano ancora il video di controllo il monitor il monitor di controllo perché andava fatto tutto diciamo a occhio diciamo e poi un'ultima curiosità nella scena a Roma piazza del Campidoglio sul Marco Aurelio è stato complicato realizzarla insomma anche da un punto di vista di sovrintendenza lì cioè non si trovava perlomeno tutte le proposte di Grisanti erano state scartate sull'ambiente di questa di questa sequenza l'ultima proposta fu il Campidoglio possibile farlo perché il Marco Aurelio che sta al centro della piazza del Campidoglio era il restauro per cui nella piazza c'era un Marco Aurelio finto un calco e quindi ovviamente questo ha fatto sì che il Comune desse permesso e Andrea ha accettato di girarlo lì e io ho solo suggerito di non farlo col sole se era possibile ovviamente non girare con il sole per evitare per questo effetto proprio cartolina di questo luogo soprattutto per noi e quindi abbiamo cercato di girare sempre senza sole con qualche difficoltà ma è stato soddisfatto alla fine sì sul restauro invece qual è stata la scena più complicata da riportare allo splendore originario ma forse anche ancora questa qui dell'albergo cioè le scene che hanno delle grandi sottoesposizioni e quelle che soffrono di più nel passaggio dal digitale alla pellicola digitale il problema è quello che la pellicola viene costruita per essere poi vista goduta su un positivo positivo pellicola costruita apposta per la pellicola è come due facce di una stessa medaglia quel negativo si sposa esattamente con quel positivo e lì c'è il risultato ottimale levando il positivo e mettendo un supporto digitale qualcosa cambia non c'è più il supporto originale che doveva ricevere quelle immagini ma c'è un altro supporto e quindi c'è una sofferenza per alcune situazioni quindi questo non si può fare nulla ma per capirci che cosa ha la pellicola in più c'era quell'abbondanza d'argento nell'emulsione che quindi vi dava maggiore no pare c'era un altro problema le copie del film erano state stampate con un sistema particolare che si chiama LNR che era un vecchio sistema che si chiama Black Silver ripreso dalla Technicolor di Roma e puntualizzato era un sistema che permetteva in pratica per semplificare molto di lasciare dopo il fissaggio sul si faceva sulla copia positiva sul positivo invece di sciogliere tutto l'argento nel fissaggio una parte di argento rimaneva quindi si sovrapponeva all'immagine a colori un'immagine bianca e nera quindi questa sovrapposizione comportava una desaturazione dell'immagine del colore e un aumento di contrasto quindi erano due fattori diciamo il passaggio negativo digitale più il fatto che le copie avevano questo trattamento quindi abbiamo cercato di riprodurre i contrasti delle copie ma insomma una differenza c'è io devo dire dopo sono stato con un tecnico veramente bravo un colorist siamo stati per diversi giorni abbiamo fatto tante prove però insomma io sono soddisfatto anche se l'autore dell'autografia per me era più bella la copia in pellicola alla sera soffro un pochetto però il risultato è ottimo diciamo al di là al di là del restauro di nostalgia cosa pensi dei restauro in digitale in assoluto in assoluto sono un mezzo io insomma rivedo dei film delle volte prendiamo una copia vecchia di qualche anno per fare delle proiezioni poi le sospendo perché i colori sono completamente falsati per cui non c'è più corrispondenza diciamo sul lavoro che hai fatto e quello che vuoi far vedere quando abbiamo fatto il primo restauro di pallombella rossa al film di Moretti erano state esposte delle foto di come era il materiale prima del restauro diciamo che le copie le foto delle immagini precedenti erano tutte tendenti al verde quindi il colore si era alterato già anche se era un film dell'88 dell'88 parliamo già di qualche anno fa quindi si era ampiamente alterato il colore quindi per riportare il colore all'originale quindi restaura assolutamente indispensabile ma che cosa ti sentiresti di raccomandare alle giovani generazioni quando riprendono la pellicola e cercano di restaurarla digitalmente non capisco la tua generazione ha avuto la possibilità la maestria l'esperienza di sapere tutti i segreti della pellicola dell'emulsione di come cambia nel tempo non c'è il rischio che chi è nato digitalmente non sa da che cosa parte quindi rischia di fare dei restauri beh se nasci digitalmente lavori col digitale non hai questo problema il problema c'è chi vuole fare su richiesta magari da regista un film in pellicola i mari non hanno nessuna conoscenza della pellicola stessa quindi diventa per lui estremamente più complicato farlo cioè non è un caso che a scuola al centro sperimentale noi facciamo una serie di esercitazioni anche in pellicola proprio per dare una formazione ai ragazzi a tutto campo quindi anche conoscenza del mezzo che l'ha preceduti che loro non conoscono per cui fargli girare in 16-35 mm quindi andare poi al laboratorio lavorare dare le luci di stampa insieme al colorist quindi per loro è un'esperienza estremamente formativa perché devo dire la prima volta che vedono gli sembra quasi un miracolo lavorando sempre in digitale vedere invece questa questo negativo impressionato che poi invece l'immagine c'è il lavoro l'hai fatto anche se non lo vedi loro sono obituati ormai a vedere subito su un monitor di controllo quello che stanno facendo invece lavorare con la pellicola ti obbliga a guardare di più con gli occhi guardare la luce che stai che stai usando e poi insomma il risultato è differente il problema è vero che la qualità dei laboratori di sviluppo e stampa non so se oggi ha la stessa no sono già allora c'erano differenze molto sostanziali fra la tecnicolo e Cinecittà che erano i due laboratori migliori e gli altri e oggi non c'è più concorrenza quindi l'unico laboratorio che c'è a Roma si deve augurare che i bagni di sviluppo siano sempre al top e quindi però questa è l'incognita difatti alcuni per il tuo Roger Dickens in intervista dice basta con la pellica non voglio più soffrire con i laboratori perché una volta era cioè ti davano una tranquillità insomma ti eri sicuro del risultato e oggi non lo sai quindi questo è il vero problema e quindi poi devo dire digitale adesso io ho lavorato sempre in pillico ma la qualità delle macchine digitali oggi è straordinaria Andrei Tarkoschi quale altre esperienze hai avuto di restauri di figli di tuo padre in altre situazioni diciamo direttamente non mi sono occupato del restauro sono state fatte di restauro infatti con delle problematiche che proprio ha descritto Beppe perché molti persone che non sono abituati e non hanno mai lavorato con la pellicola i giovani tecnici dei restauri spesso non non sanno come gestire un restauro perché poi comunque attualmente per il restauro spesso si va anche un po' a gusto di quello che vuole il pubblico quindi per esempio una volta mi sono imbattuto nel restauro del Mosfin dove mi hanno fatto vedere il restauro di Stalker dove le sequenze dei sogni quello famoso seppia di Stalker erano in bianco e nero mi hanno invitato alla proiezione e ho detto ma scusate dov'è il bianco e nero ma dove era seppia ma questo è negativo bianco e nero ho detto si ma andava stampato sulla pellicola colore così veniva fuori seppia quello che mi piace mio padre ha fatto quasi in tutti i film in quest'operazione ah sì fu la domanda quindi un po' attenzione anche a vedere questo vuol dire non hai visto nemmeno il film in realtà non hai visto una copia positiva del film ha preso in negativo e hai cominciato a lavorare in questo modo e poi anche un altro problema è proprio questo gusto video quindi contrasto estremo portare tutto togliere tutta la grana che è una bellezza della pellicola stessa poi mio padre piaceva sempre questa specie di morbidezza anche questa non eccessiva colorazione della pellicola invece spesso viene trascurata infatti molti dvd che sono usciti che sono in giro che la gente purtroppo vede studia su quale basa anche le ricerche di critica cinematografica insomma sono completamente sbagliate quindi bisogna fare attenzione infatti perché poi alla fine si creano delle teorie completamente sballate su quello come giravo e perché giravo Tarkovsky sul colore eccetera perché non hanno mai visto una proiezione in pellicola per esempio io comunque sono d'accordo che certi film creati fatti in pellicola andrebbero visti in pellicola sicuramente perché è tutta un'altra tutta un'altra cosa infatti qualche anno fa abbiamo fatto una retrospettiva di film di mio padre in 35 mm a Firenze con alcune copie abbiamo stampato in Russia anni fa nonostante la qualità chiaramente non più eccellente del colore c'era la gente è venuta proprio a posto da varie città a vedere Tarkovsky in pellicola perché e molti non hanno mai avuto questa possibilità adesso infatti stiamo lavorando su un restauro a Roma di Andrei Rublioff un restauro in 4K della versione d'autore di Director's Cut che non è mai stato fatto perché il film fu girato il girato del film il primo montato è 205 minuti la versione in distribuzione 186 e la versione d'autore era diciamo in mezzo perché chiaramente ci sono state fatte molte taglie di censura del film la storia del film è molto complicata è difficile ora non vi racconto tutto però si sa che il film è stato girato nel 66 è rimasto per 6 anni bloccato anche a rischio di distruzione del negativo dalla censura sovietica è stato fatto vedere nel 69 di contrabbando al festival di Cannes da Jacques Lang che ha voluto fortemente questo film fuori concorso grazie anche a questo intervento un po' peratesco insomma il film fu salvo perché hanno chiesto tutti di volere questo film infatti il film uscì prima in occidente in Russia uscì praticamente un mese dopo uscita di Solaris pensate nel 72 e quindi è una versione più lunga con delle scene più alcune scene molto belle che furono tagliate quindi stiamo cercando di ricostruire il più possibile la versione da autore Lanci c'è una scena che sono stata abbastanza complicata da girare immagino anche da restaurare diciamo la prima sequenza quella all'alba con la macchina che si vede con questo rosso che si intravede il verde che si intravede che difficoltà avete avuto sul set e poi se è stato complicato ricrearla in restauro sul set diciamo nel film Andrei usava sempre lo zoom abbiamo usato quasi tutte le inquadrature lo zoom in quella scena che doveva essere un'alba vera e ho chiesto di usare delle ottiche fisse che sono più luminose per poter quindi girare prima prima possibile quando c'erano le primissime luci e allora lui ha voluto ovviamente fare sempre il suo piccolo movimento di macchina come c'è in quasi tutte le inquadrature e quindi abbiamo dovuto di notte preparare su dei praticabili un carrello con i dolli sopra quindi siamo stati qualche ore di preparazione e quando però è arrivata l'alba ha cominciato a piovere fortemente quindi è stato un temporale che è durato un sacco di tempo e quindi non abbiamo insomma l'alba era andata via e io attraverso norma dico Andrei l'alba non c'è più questo è giorno è un giorno grigio e allora insomma sarebbe meglio andare via e lui ha chiamato l'organizzatore e ha detto dice Peppe ti deve parlare e dico Franco abbiamo andato a casa perché l'alba l'alba non c'è più e quindi malgrado qualche dimostranza di Franco della produzione siamo andati a casa e il giorno dopo abbiamo fatto questa quest'alba secondo me è una delle più belle inquadrature del film che immerge immediatamente nell'atmosfera che ha tutto il film insomma quindi era un inquadrature estremamente importante no come restauro non c'è stata una difficoltà particolare era riportarla perché in tutte le versioni uscite in blu-ray o dvd era tutto il giorno hanno schiarito completamente la sequenza verso ogni atomosfera quindi era stata solo riportarla all'originale insomma quindi se voi ieri avete qualcuno visto la proiezione vedete che all'inizio c'era prima una piccolissima luce che permetteva di vedere quindi il colore era praticamente scomparso e noi vediamo che ha colori solamente quando la macchina scelta apposta nera la Volkswagen nera frena e quindi vediamo le lucine degli stop lì c'è il colore ma se no sembra un'immagine bianca e nera ma non è che la luce sale si sente un po' il verde del paesaggio so che ci sono delle domande non abbiamo moltissimo tempo quindi magari lascerei anche spazio a qualche curiosità se ci sono altrimenti proseguiamo anche noi stessi c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa che non sia stato già ecco una signora in verde c'è un microfono si sente? no magari parlo forte sì buongiorno io arrivo dalla Slovenia dove anche facciamo questi lavori e dato che ci sono sempre non ci sono abbastanza fondi per fare le cose come si devono fare ah ecco adesso avete sentito prima allora volevo certi adesso già fanno allora volevo chiedere se è stata il digitale che avete fatto nuovo è stato anche copiato su una coppia 35 millimetri o no? e cosa ne pensa se questa teoria che bisognerebbe anche dopo per per l'archivio il cosiddetto ritorno in pellicola ritorno in pellicola sì è un argomento gigantesco su cui si dibatte da anni e temo si continuerà a dibattere moltissimo grosso modo il passaggio già dalla pellicola quando si tratta di un negativo originale o peggio da un positivo da un interpositivo da un lavanda in digitale crea in realtà un altro tipo di film dove seppur piccola perdita di cui parlava il maestro Lanci c'è e quella rimane nel digitale il restauro in digitale poi riportato in pellicola crea un'altra copia e anche lì c'è comunque un passaggio e quindi se non una perdita comunque una difformità una modifica quindi già ci sono due modifiche in mezzo allora il il dogma del ritorno in pellicola è forse esagerato perché comunque non si va da pellicola a pellicola ma c'è in mezzo qualcos'altro che il digitale però è vero che nel caso di un originale come il negativo che è in evidente disfascimento che magari è attaccato da sindrome acetica che rischia di di dissolversi perché è un nitrato infiammabile dà quantomeno la possibilità di avere una copia attendibile del restauro in un materiale il poliestere che se conservato in modo adeguato per cent'anni dovrebbe riuscire a a sopravvivere una scuola di pensiero che a me interessa moltissimo è anche quella in realtà di non fare il ritorno in pellicola dal restauro ma piuttosto di investire questo denaro nella nella copia dei materiali originali cioè fare un controtipo della pellicola iniziale perché uno dei problemi del restauro in digitale è che con l'aggiornamento continuo delle tecnologie quando l'hai fatto in 2k non puoi poi da quello fare un 4k devi comunque riprendere il materiale originale il negativo se ce l'hai se non il positivo quando poi avremo il 6k o l'8k si rischierà per quanto si stia arrivando a livelli non visibili all'occhio umano di comunque buttare via anche il restauro in 4k anche qui a Bologna quanti firme sono stati restaurati e visti in 2k e magari dopo qualche anno il restauro è stato rifatto in 4k con risultati migliori ma non si riprende quello che è stato scannerizzato in 2k si riprende ancora la pellicola iniziale la pellicola iniziale come tutte le cose umane a un certo punto avrà una fine allora forse i soldi del ritorno in pellicola di un restauro in 2k sarebbero meglio spesi facendo un controtipo dei materiali originali a cui ritornare quando si decide di fare un restauro ancora migliore quando le tecnologie te lo te lo propongono quindi nel caso di nostalgia io credo che un ritorno in pellicola lo faremo ma non non credo sia la cosa più importante la cosa più importante è la preservazione del negativo che per fortuna abbiamo ritrovato e l'abbiamo trovato in ottime condizioni e quella a volte potrebbe durare anche più del file originale che spesso essendo soggette alle regole dittatoriali delle app che dopo un tot decadono devono essere soggette a refresh potrebbe avere poi una durata e quindi anche un'importanza maggiore anche a quello del restauro stesso queste sono tutte teorie si potrebbe dibattere moltissimo ma il discorso è aperto e dipende sia da disponibilità economiche perché volendo si dovrebbe fare entrambe le cose un ritorno in pellicola dei film restaurati e anche un controtipo dei materiali originali volevo solo chiedere cosa vuol dire il controtipo sarebbe una copia diciamo da pellicola a pellicola dal negativo a una copia che lo preservi che te lo metta da parte quando quella vecchia andrà a dissolversi però adesso ancora non sappiamo che tipo sarà perché abbiamo un negativo positivo questa copia vorrebbe cosa sarebbe perché adesso facciamo le cose per archiviare sul cosiddetto LTO che bisogna sempre trasportarlo da un LTO ma l'LTO comunque lo si fa a partire dal digitale non dalla pellicola cioè sarebbe meglio secondo me avere più copie in pellicola anche semplicemente dei positivi tirati dal negativo qualcosa che ti ti faccia prolungare la vita della pellicola inevitabilmente facendo delle copie ma senza passare necessariamente prima di farlo anche dal dal digitale va bene grazie volevo se posso ancora un'altra cosa quando il signor Tarkovski ha detto che al Mosfilm sono andati a fare la copia ristorata senza prima guardare le copie questo veramente mi sembra un disastro enorme perché ci sono insomma delle cose come si inizia con il restauro così che veramente difende dall'approccio infatti un vero restauro va fatto quando comunque come in questo caso è perfetto c'è il direttore della fotografia del film che soprentende i lavori del restauro ci voglio qualcuno che ha lavorato sul film perché le persone anche la nuova giovane generazione che prende in mano un film degli anni 70 e non conosce insomma proprio la particolarità della pellicola la storia eccetera non è capace di fare un restauro appropriato e quindi quello che è stato fatto con l'operazione del cosiddetto restauro la trovo inutile insomma sono soldi spesi inutilmente perché comunque anch'io sono d'accordo avere io in Russia sono riuscito comunque a fare una copia una stampa dei negativi dei film di mio padre 35 mm nei stabilimenti Kodak con la Colorist che ha lavorato su tutti i film di mio padre tra l'altro che parteciperà anche adesso al restauro di Andrea Rublioff ancora in vita ancora lavora e quindi una persona che ha a memoria tutti i film tutti i colori tutto quello che perché ha lavorato personalmente con mio padre che partecipava anche alla stampa tra l'altro adesso pochi registi insomma si occupano insomma è un lavoro di editore di fotografia però anche lui voleva essere perché gli piaceva partecipare a ogni processo della produzione dei film e quindi avere una copia ecco 35 mm se c'è la possibilità in futuro permetterà anche di tecnologie cambiano tutto cambia è digitale è un'evoluzione costante la pellicola comunque rimane infatti questo ristauro stiamo facendo delle ruble off stiamo facendo su una copia 35 mm che mio padre ha tenuto in casa nel 1966 l'ha portata questa copia proprio pensando se il film verrà distrutto il negativo sciolto nell'acido almeno avrò una copia del mio film quindi lavoriamo su quello che non è mai stato proiettato per fortuna in buone condizioni quindi ci permette di lavorarci c'è una domanda che immagino sia anche un intervento da parte di Sergio Bruno che è responsabile del restauro si ci tenevo a fare delle precisazioni sono Sergio Bruno responsabile del restauro della Cineteca in questo caso per questo restauro sapete che i restauri partono sempre da tanti motivi salvare il film eccetera in questo caso c'è un nome e cognome Giuseppe Lanci perché noi in Cineteca abbiamo forse l'unica copia ancora in pellicola che rispetta esattamente i dettami di Tarkovsky e i fotografici di Beppe e ogni anno Beppe la proietta ce la chiede in archivio per farla vedere agli studenti ma ovviamente quella copia si sta rovinando la stiamo perdendo ecco l'intervento di restauro è partito proprio da questo salviamo questa copia che è l'unica perché ci siamo detti con Beppe probabilmente adesso noi di questo restauro faremo sì ritorno in pellicola lo faremo ma probabilmente stiamo ragionando di fare una stampa diretta dal negativo però quel negativo sono passati 40 anni probabilmente anche quella copia non verrà mai come quella copia che abbiamo in archivio quindi è prezioso si avrebbe fatto questo restauro preserviamo quella copia che abbiamo anche digitalizzato quella copia quel positivo è stato digitalizzato faremo un nuovo negativo un internegativo un due positive un due negative del film dal restauro quindi documenteremo questo restauro in pellicola però stiamo ragionando di fare proprio una stampa diretta da quel negativo avremo tutte e due le strade ricordandoci che forse l'unica copia che rimanterrà negli anni la conserveremo e non te la daremo più non te la faremo più vedere perché si rovina questo è il dibattito mostrare e conservare nel grande dibattito dei restauratori qualche volta la concederemo e quella l'abbiamo usata come reference per il restauro questo è stato l'ottimo avevamo quella copia come reference e Beppe Lanci ecco il lavoro che bisogna fare quando ti lamentavi di restauri fatti invece partendo da non da elementi da conoscendo la pellicola scusate un intervento di 5 minuti che vi ho fatto perdere tempo ma andava fatta questa precisazione voglio dire solo una cosa tutte le persone che non hanno mai visto il film in pellicola e che quindi conoscivano la nostalgia attraverso i DVD e i Blu-ray che sono circolate e che hanno visto questa copia in pellicola io ho fatto diversi seminari a scuola con questa professione questo è un altro film certo falsiamo la storia del cinema cerchiamo invece di riportarla sui binari questo ci teneremo a dire abbiamo partito da questo invece questo restauro si avvicina tantissimo all'originale grazie una precisazione importante una domanda un'altra domanda importante nostalgia o nostalgia 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 che viene dal greco nostalgos no no benissimo senti nostalgia nostalgia lo dice Andrei Tarkovsky quindi è ufficiale che è esattamente nostalgia nei termini italiani insomma senti cosa se allora ultimissima cosa con una proprio cosa avrebbe pensato tuo padre la situazione russa attuale senza partire con la conferenza ma è una situazione difficilissima mio padre si è tenuto sempre comunque fuori dalla politica io credo che un artista anche lui l'ha sempre fatto parla con le proprie opere credo che quando c'è il momento di reagire un artista deve reagire con la propria arte io lui l'ha sempre fatto io credo che i migliori artisti russi dovrebbero e lo fanno credo lo stesso in questo momento quindi io spero soltanto che finisca presto questa situazione questa barbarie e quindi questo silenzio che spesso viene criticato anche delle delle artisti dei personaggi della cultura russa proprio dovuto a questo perché siamo abituati a soprattutto persone che hanno vissuto anche nel periodo sovietico di di non spendere le parole ma fare le azioni proprio agire e ognuno utilizza il linguaggio che consono che proprio che ha veramente imparato di usare benissimo grazie grazie e per per chi vorrà domani abbiamo un ultimo appuntamento come Cineteca Nazionale con questa bellissima versione director's cut della ricotta di Pasolini alle ahimè alle nove e un quarto del mattino ma prima ci sarà una chiacchierata poi la proiezione alle dieci per chi vuol vedere dopo ed è l'unica versione della ricotta così come Pasolini l'aveva pensata e licenziata prima di doverla manipolare in seguito ai processi e alle polemiche che ci sono state grazie a presto grazie a presto grazie grazie a tutti grazie a tutti